Un corso di aggiornamento da parte dell'UGL insieme alla società di formazione Pegasus sulla sicurezza sul lavoro. Sono tanti purtroppo annualmente gli infortuni che si verificano soprattutto nei cantieri edili. Il sindacato da anni si impegna affinché ci sia maggiore sicurezza. La situazione è abbastanza critica, soprattutto in Sicilia. Non ci stancheremo mai di ripetere che la sicurezza è importantissima. Perché purtroppo si continua a morire nei cantieri di lavoro, nei cantieri edili. Noi abbiamo fatto questo seminario di aggiornamento delle normative ma non bastano le normative però poi si devono applicare. Cioè da parte degli enti preposti, l'ispettoratore del lavoro e da parte anche dei carabinieri che pare che dovevano dare una mano di aiuto a questo sistema che purtroppo non funziona per fare in modo che la maggiore vigilanza procuri meno morte sul lavoro. Specialmente in un settore dove c'è parecchia, diciamo così, emersione del lavoro nero che non si riesce a fare. Parecchi migrati che vengono magari non regolarizzati, messi nel ciclo del lavoro e poi qualche volta ci lasciano anche la pelle. Quindi come UGL, come sindacato abbiamo da sempre noi sostenuto che bisogna fare più prevenzione, bisogna creare le strutture ancora per poter vigilare su questo stato di cose che purtroppo ancora oggi non va bene. Formazione e aggiornamento delle figure della prevenzione nei cantieri, è questo il tema su cui si basa il seminario e anche sulle ultime normative in materia? Sì, è proprio questo il tema. Oggi parliamo a molti professionisti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che si devono preoccupare per conto dei loro committenti in genere datori di lavoro di provvedere alla formazione di tutte le figure previste dalla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare esiste da qualche anno il decreto legislativo 81-2008 che prevede che molte figure devono essere formate dal lavoratore che è l'elemento fondamentale in qualsiasi attività di lavoro fino alle figure più specialistiche quali coordinatori per la sicurezza e responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Recentemente nel 2012 sono usciti tantissimi accordi stato-regione che prevedono corsi di formazione specifica sia per i lavoratori, per i preposti, per i datori di lavoro, nonché per figure specializzate nell'utilizzo di alcune delle principali attrezzature o meglio di quelle che sono a maggior rischio nelle attività di lavorazione. Secondo lei oggi questo tema viene trattato con ancora troppa leggerezza oppure già c'è tanta informazione e tutti si adoperano affinché stiano in linea con le normative. La materia è una materia che richiede un continuo aggiornamento. In questi accordi tra l'altro si prevede proprio un'obbligatorietà di aggiornamento con periodicità triennale, quadriennale o quinquennale. Questo sta proprio a significare che necessita sempre un aggiornamento e una formazione in materia di sicurezza per cui non è mai sufficiente ciò che viene fatto ma soprattutto gli ultimi decreti hanno reso più efficace la formazione, cosa che in passato non era.